ciao a tutti ragazzi sono gabriele 06f bentornati in un nuovo video di minecraft allora qua siamo tornati come vedete questa volta ho fatto qualcosa io da solo perché in pratica oggi in questo video volevo fare una bellissima cosa ossia fare un piccolo una piccola come possiamo dire una piccola coltivazione come vedete ho già preso 12 semi di grano che i semi di grano cazzi si prendono semplicemente con l'erba cioè voi dovete distruggere l'elba che l'elba poi avrete in un colpetto secco ce l'ha fatta prenderla non ha detto che tutta l'elba ve lo dia infatti c'è l'elba è un sacco e ne ho solo 12 ed è da poco li faccio allora intanto vi dico già che ho solo preso i semi per ora come vedete qua che è vicino a casa vedete là c'è la mia casa e quindi prendiamoli stavo prendendo ancora poi vedete là invece c'è il mondo in cui siamo nati in realtà io ne volevo prendere proprio 12 però intanto non ho preso 13 quindi meglio io ormai ne proverei a prendere 14 così facciamo due file da sette ovviamente ho preso anche la zappa d'oro ragazzi e questa qui ci aiuterà a zappare ovviamente visto ce l'avevo così che tanto zappa d'oro cioè la zappa si utilizzava quindi questa qua ci resterà per un sacco di tempo poi il bello è che ha efficienza tanta ed ha anche un tocco di velluso se potessi farei anche un'altra cosa ora ve la mostro ragazzi intanto andiamo qui e cominciamo a fare le zolle di sera ce le faremo vicino alla nostra casa proprio qua davanti ok adesso decidiamo il punto per fortuna qua non c'è tanta erba così almeno non dobbiamo sfogliere anche l'erba ecco proprio qua accanto facciamo tipo così guardate 3 4 5 6 7 poi facciamo un blocco facciamo ecco una una si è già distrutta quindi dobbiamo piantare i semi subitissimo perché io so perché si fanno così ragazzi perché ovviamente sono secche spiazzami i semi velocissimi ok togliamo questo e non va bene stai fermo ah si è già consumata quasi tutta la zappa altro che resta ma non me lo ricordavo si consumavano così velocemente vabbè poi non è che dovrò fare tantissime coltivazioni quindi però oddio si è consumata troppo veloce e io volevo fare adesso vabbè comunque siamo usciti a pentare adesso per far crescere più veloce se ne intanto 3 lama non scappare e come vedete infatti voi non so se lo sapete però io cosa sta facendo il lama c'era il mercantilante dell'altra volta vi ricordate quello che era invisibile ecco e aveva i due lama io l'ho ucciso perché tanto ormai non potevo più fare niente e mi sono preso uno dei suoi lama l'altro lama non so dove è andato mi sembra che era qui però non lo so il lama quest'altro vuole uscire non puoi uscire devi stare in casa quindi adesso io prenderei mi serve 3 di ferro quindi dobbiamo vabbè lo prendo tutto allora e mi voglio fare un secchi intanto mi potrei fare un sacco di cose c'è anche il taglia pietra non so come si utilizza però c'è anche lo scudo che dovrei fare quindi incominciamo allora intanto mi serve a cioè potrei fare anche l'acciarino posso fare l'acciarino si acciarino ne accendi ne acciarino allora vediamo se lo trovo poi qua c'è anche il blocco sonoro che serve la piazza rossa ma io di piazza rossa sono 80 quindi c'è anche il tavolo da fabbro adesso troviamo quello che volevo prendere prima il secchio mi voglio fare un secchio io e uno scudo ecco lo scudo mi serve a me quindi lo scudo magari me lo metto anche ecco l'ho droppato riprendilo lo scudo che ci serve me lo metto nella seconda mano ecco così vedete ci possiamo parare dagli attacchi notturni degli altri animali e con secchio d'acqua andremo a prendere dell'acqua ovviamente perché così almeno i nostri la nostra bella coltivazione crescerà prima sì perché con l'acqua ovviamente si fertilizza prima e riesce a crescere le nostre piante che cercano a crescere prima quindi andiamo alla coltivazione magari diamo un pochino che non voglio spiegare no mucca non passare sopra qua ci dobbiamo mettere ancora il cinto perché magari questi distruggono le coltivazioni mucca battene via brutta mucca attiva fa apposta allora brava e via magari torna però dobbiamo metterlo tipo in centro l'acqua ecco che così sfocia da tutte e due le parti ecco vedete questa qua che è diventata marrone voi direte che cosa è che è successo una cosa brutta no in realtà è anche una cosa buona perché vuol dire che si sta già fertilizzando sta arrivando anche la notte quindi subito in casa subito subito e l'arma ha proprio tanta voglia di uscire non vedo il suo fatto che non lo sa ma non puoi uscire dovrei fare un recinto anche a lui ancora riuscito per le mie coltivazioni di secco lo mettiamo dentro che hai bene bene poi abbiamo lo scuro ci siamo fatti quindi adesso mi farei anche un'altra cosa bastoncini non ti ne ho ancora tre allora abbiamo da fare se mi vorrei fare altra cosa si fa con l'andesite non lo sapevo e vorrei fare una spada un piccone abbiamo finito legno e il taglia pietra ecco il ferro ce n'è rimasto quattro quindi fare un altro piccone quindi in tutto ne abbiamo tre mettiamo il taglia pietra da una parte perché il taglia pietra secondo me servirà quindi abbiamo anche una spada in ferro così almeno eccolo qua il taglia pietra ci mettiamo la pietra e penso la tagli o almeno credo taglia pietra questa è ciotoli ah vedete cosa fa cioè direttamente dice cosa fare quella con il piccone direttamente cosa puoi fare con la pietra anche con l'andesite si oddio le lastre di andesite non le avevo mai viste vabbè comunque cosa si faccia adesso con l'andesite noi facciamo l'asta di andesite otto lastre abbiamo anche il 12 di ferro che devo cuocere quindi lo cuocerò la sera qualche sia un po di sera che la metto qua la lana questa che non serve poi 34 di pietra la metto qui mettiamole qui ecco così dobbiamo cucinare un po poi mettiamo i due occhi di ragno e lana abbiamo lana questa 8 ok quindi possiamo farci tantissimi letti di scolta ok ancora anche le cosette no le le armi tipo l'ascia il piccone di legno queste dopo me le dovrò buttare via tanto devo dormire dormiamo quindi anche se abbiamo lo scudo in mano però non ci dobbiamo preoccupare ok bene adesso la prossima cosa che vorrei fare oltre che la coltivazione in realtà crescendo se mucca per la mucca intanto la spingo via anzi l'ammazzo così mi dai ecco brava la carne ok si sta quasi rigando tutta bene bene l'acqua vedete sta chiusando di rigarsi così crescerà prima e dopo questo la prossima cosa che potrei fare ragazzi intanto è cucinare un po la carne sul fuocolaio ma poi la prossima cosa che potrei fare è cercare un villaggio perché il villaggio ci possa aiutare ad avere più semi per le coltivazioni e anche magari possiamo trovarci in qualche cesto qualche smeraldo un diamante magari anche se trovassimo tipo due o tre diamanti sarebbe una cosa buonissima anzi tre diamanti è meglio però per specificare però pollo vabbè intanto mi devo fare cibo quindi pollo pollo più una piuma le piume prima ci potremmo fare non so cosa ma ma l'ama vabbè l'ama lo uccido me ne me ne farò uno tutto mio e che cavolo se ne sta qua e che vuole uscire guardate era pronto no 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 non è l'amara tu a me e ora mi sputi no non hai avuto nemmeno il coraggio prima di morire ok mettiamo adesso questa carne che ho appena ottenuto e aspettiamo si cuocia ok mentre la sto cuocendo ho pensato anche una buona idea sarebbe farne più focolaio così possiamo cuocerne di più perché tipo me ne è rimasta una che non posso mettere perché ovviamente non è che posso mettere carne limitata nel focolaio ne posso mettere quattro alla volta quindi servirebbe un altro focolaio intanto vado a vedere cosa sta ancora al singhioso da ieri dicevano andete conto allora andiamo a vedere se qua nella chest infatti avevo un pollo da cuocere quindi lo cuoceremo adesso che è altra cibo no quindi torniamo fuori che mi è cotto la carne adesso noi andiamo a cuocere quell'altra intanto la prendiamo questo è il pollo che c'è anche le ossa che le devo depositare perché ce ne ho anche qua che magari in futuro ci allevrò un cane sono 5 dal 5 ne bastano per allevare un cane 9 piume carbone in tutto è tipo uno stack 22 tipo penso non ne sono proprio sicuro però ok quindi metteremo anche più focolai e andremo alla ricerca anche di un villaggio magari in futuro anzi ora magari se potevo però mi servebbe una mappa io ho una mappa qua intanto mi dice posso fare le cesoie palle di fuoco a col carbone e però servono anche altre cose per farsi le palle di fuoco l'arciarino magari me lo potrei già fare però voglio fare una mappa come si fa a fare una mappa serviva la carta ma non ho nemmeno un oggetto ovviamente per farla nemmeno vediamo posso farmi una bussola un bersaglio con un pezzo di grano si può fare un bersaglio non so il bersaglio cosa mi può servire è un nuovo oggetto hanno aggiunto su minecraft però qua c'è lo scuso che abbiamo già fatto qua c'è l'altro focolario che serve a legna vero legna sono accorto qua di questa cosa serve terra delle anime non so paio cosa sia tramoggia serve questo altro tavolo del caio ok ho capito tutto bene quindi niente non posso sapere come fare la mappa però forse se io avessi la carta me lo direbbe perché ho la pietra focaglia qui le metti qua ecco mi servirebbe infatti della carta e quindi nei villaggi c'è anche la carta quindi prendiamo intanto il cibo che mi è arrivato e andiamo alla cerca magari di un villaggio perché nei villaggi c'è sempre la casa del libraio e il libraio non prendiamo la carne dei zombie il libraio ovviamente hai il caffaide a cui se te li rompi ti danno i libri e magari qualche cesto dove si può trovare della carta o magari direttamente una mappa che poi a me mi serve la mappa per trovare un villaggio però infatti quindi però una mappa anche proprio in generale una mappa sarebbe buona come oggetto eh scusami maialino ah lui è tipo è il suo padre vabbè scusa vabbè io non ho mazzi piccoli però però si maiali si sennò come sopravvivo qua un'altra caverna vediamo se magari a tiro troviamo un po' di ferro no qua finisce subito la caverna se magari a tiro troviamo un po' di ferro sarebbe anche una cosa buona sinceramente no niente allora riprendiamoci la tolce e ce ne andiamo via ok andiamo alla ricerca di un villaggio ricordandoci che la nostra casa è tutta a dritto vedete se noi ricordiamoci quindi se non andiamo avanti così è decolino la casa aia vabbè per fortuna ho otterraggio morbido effettivamente anche che da qui sono caduto da qui a qui quindi però io ho otterraggio morbido intanto la mia arma qua si sta spaccando però vai che stivoletti si perché gli stivoletti sono la cosa più uso nel metto di qua io lo uso poco ma quello la ha visto che devo e si distrugge subito però gli stivoletti visto che il caso è sempre da tanto alto mi faccio male e non va bene qualche piccone si ok ho il piccone e me lo metto qua perché ho già avevo questi quattro polletti da cuocere ah li ho presi ora però quindi prendiamoci col piccone di pietra perché non voglio sprecare il piccone di ferro per prendere il carbone usiamo il piccone di pietra per prendere il carbone che ci serve comunque il carbone il carbone è molto buono infatti cerco di sprecarne poco anzi di usarlo poco e il che sprecarne non si dice perché non è che lo spreco lo uso quindi non è che lo butto via quindi ok vediamone tutto quanto guarda quanto ce n'è risolvi sempre in grandi mucchietti oppure in grandi mucchioni e 11 11 di va bene poi qua ci serve un'altra caverna no ora non facciamo magari guarda un po che c'è ferro ora tanto a tiro non è che era però anche questo il piccone di pietra 4 per ora 4 ho ancora da cuocere quello dell'altra volta ragazzi comunque beh in realtà sarebbe bello andare in ava scoperta qua però gli ultimi video sono stati congiuntati sulle caverne ci ricordiamo di questo posto magari lo andremo a vedere dopo se magari possiamo fare tipo una bandiera esistesse no non so cosa faccio magari faccio una pila di blocchi con quelli che ho per ora legno devo pure usare questo legno vabbè usiamo questo legno una pila pericolarsi magari che caverna è se ci passi almeno ti ricordi che caverna è non è così lontana da casa l'oltre andare di qua perché mi convince più di andare di qua magari però il villaggio era di là anche di là però mi ispira che ci sia un villaggio io vado io vado sui monti vedete che su quel monte perché a parte a me mi piace andare in cima ai monti perché sui monti scavare dentro un monte a parte c'è un sacco di pietro ma poi potremmo trovarci qualche smeraldo se scavare in fondo a uno dei monti e quindi ma poi perché mi ispira questa zona mi sento che ci sia un villaggio ok pensavo che quello la fosse un villaggio ma invece c'è un solo mucchio di terra vediamo se lo troviamo una piccola mucca qua ci sono degli alberi messi insieme grande è sto monte guarda carbone vedo già da fuori il carbone se si vede da fuori il ferro era una cosa anche molto più buona qua c'è qualche annegato? non posso notare liberamente eh vabbè meglio posso salire qui vediamo no eh devi saltare qui e poi saltare qui vediamo ancora altro carbone guarda a volte è tanto eh tantissimo per noi abbiamo già 19 bene bene meglio ho preso anche un pezzo di pietra che pensavo poi era carbone però vabbè i pezzi di pietra non mi dispiace vedi perché così i piccoli di pietra comunque servono a tanto vedete quindi prendiamo il carbone e lo so nelle caverne ci si sta tanto anche però le caverne sono molto utili perché ti danno i materiali più essenziali per poi andare nel nether si sempre riferimento al nether che sta anche arrivando la notte e devo farmi anche i reti portati però mi sono dimenticata di farli un pesce un pesce pensavo fosse un annegato i miei gatti a volte portano anche i stridenti quindi sta arrivando la notte e non va tanto bene creiamo il monte ecco chi così dal monte possiamo vedere se è tipo dall'altra parte c'è un villaggio e poi abbiamo una vita più ampia su tutto però anche sui monti spavano gli animali cattivi però vabbè tocchiamo la neve ok siamo arrivati alla neve buono vai siamo arrivati alla neve che è già alla cima del monte quindi guarda un po' ci potrei appiazzare una bandierina qua una bandiera ecco sono arrivati in cima del monte qua c'è un altro pezzo di monte quindi comunque non si vede tanto bene il raggio della mia vista è abbastanza ampio tra lì per vedere no 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 uranio uranio allora tipo farci una soglietta in alto non sarebbe giusto perché arriverà supero si e se aveva uno scherzo ci butta di sotto e magari se di sotto c'è il creeper che magari prima non ci prendeva ci prende subito io non mi dovrei preoccupare tanto senso insomma abbiamo una spada in piazza eppure una in ferro e uno scuro adesso mi sono preso pure lo scuro io vado anzi cioè mi devo sentire libero di poter viaggiare nella notte poi poi se a massimo li scrivo ecco ce n'è uno là però non so se mi ha visto un ragno qua mi spira e aia e lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo oh questi mi buttano di sotto oh oh morise morise lo sapevo ragazzi sarebbero arrivati quanta poca ok le mie cucciate quando mandano tutte queste me le sono subito le fatte recuperare no però qua non dobbiamo stare perchè avete visto ci stavano per buttare di sotto noi andiamo di qua ecco però non devo eh ho capito c'ho il raggio morbido però così mi sono un po' no chissi volete quando mi stessano l'utilosa farò non enderman io odio gli enderman perchè se li guardo in faccia arriva una strage aia dai però cercherò di farmi danno eh quel che cos'è? l'uso di no... no uno scheletro era qua ci sono gli alberi anche sono tanti alberi tutti attaccati fitti qua c'è uno spazio gigante oddio non ti avevo visto mi scusi ma il paio mi prende sempre oh ma sono un mirino perfetto oh basta basta muovi eh quanta noia e danno questi scheletri vediamo se riusciamo a trovare il villaggio magari ecco con la pioggia non si vede niente quasi però andiamo avanti noi ragazzi hai visto comunque stiamo resistendo a viaggiare nella notte poi devo usare lo scudo vai viaggerò così aia da dove? da dove però? ma come? questo qua aveva uno zombolino sulla schiena che i zombolini io li odio poi mi rimane dalle spalle per fortuna poi quando ti fanno danno se lo dicano ok io non vorrei perdere il senso di entramento perchè io comunque non cerco tutte le le mie cose quindi questa volta una casa non è una casa tipo di quellette magari puoi dire tipo vabbè e la lascerò fare dai ho trovato un po' di materiali per farla però questa nemmeno puoi dire così perchè ci sono degli oggetti molto buoni quindi rivolgiamoci anche dove è la mia casa però per un villaggio questo è altro mi fermerò in questa caverna non è vero mai no 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 per caso le toglie se le tieni in mano non ti illuminano sennò vabbè pure la spara o me la prendo e ovviamente ragazzi finiamo sempre nelle caverne cioè è ovvio finiamo sempre nelle caverne perchè le caverne sono un punto di riferimento c'è dove puoi stare pura tanto protetto no perchè comunque si spavano i mob quindi però andiamo avanti spaviamola un po' è grande è grandissima vabbè le tolge io non le toglierei comunque le volevo togliere anche all'inizio sono dei partitori le tolgo tutte le anni poi dopo sono arrampicarsi io vado un po' lontano ecco ho avuto il ferro me lo prendo ok l'ho preso bene ok sta durando tanto il tuo video penso però ragazzi è per farvi vedere un po' quello che faccio anche se no a volte può essere un po' noioso magari vedere però non vi preoccupate poi ci renderemo di meno quando magari sarà finita la notte la prima volta ci penserò via nella notte però allora io volevo andare qua perchè qua va sotto però non mi piace il frincello di dai lo ferro ferro a volte è meglio anche mettere le luci che è caduta l'intera caverna e si è scoperto un altro posticino perchè era ghiaio ed è caduta tutta perchè ho distrutto dei blocchi e nemmeno le frane con la sabbia fanno questa cosa vabbè così sta andando sempre più in là questo è ghiaio che pensavo fosse il minerale che ho visto prima comunque vedete era questa cosa è collegata alla nostra strada però mi sembra di esserci avvenuto qua sotto no forse con la ghiaio è caduta anche un pezzo di qui che e che bello tipo sembra nei film che tipo cadono non lo so ti sposti qualcosa nei cartoni animati e tipo si apre un portone così mamma mia vabbè qua siamo ancora in un gioco eh non è un film però è un gioco quindi ok ferro quanto ferro ho? ah 41 buono ce lo siamo un po' ripreso eh anche qua c'è si è bucata anche qui c'è un altro passaggio sai che qua è dove c'era il ok guarda no no non finisce non è vero tanto ferro qui però qua finisce non c'è una verna dove è best non si ferma mai che va tanto sotto però vabbè ragazzi ci abbiamo fatto bene a venire qua però volevo esplorare anche dall'altra parte ok vediamo un po' cosa trovo ancora ferro ovviamente tanto ferro vabbè il ferro è comunque buono perché io ancora non mi sono fatto tipo nemmeno tutti i materiali in ferro cioè sono ancora diciamo all'età della pietra quindi e penso sia finito magari qua perché non ho corso un po' perché ho perso tutte le tolce e poi dopo guardo cosa ho trovato non so puoi andare da tante volte però dove l'ho piazzata proprio là è qua ci sono dei funghi acqua l'acqua secondo me porta intanto prendo il carbone che c'è qua l'acqua secondo me porta a dei buoni posti mmm la esploderò un po' io allora ragazzi è un po' fk io magari cioè non è fk tipo prendiamo una sigla tipo senza fare un video without due video without due video in inglese without due video quindi verrebbe tipo si without due video ok quindi vdv ok quindi la esploderò in vdv ok quindi per me ragazzi il video può anche finire qua perché sennò dura un sacco qui qua dove c'è l'acqua se non metto avremo qualcosa magari intanto io continuo a vedere se no invece no perché poi sale deve dovrebbe scendere scendere però ok qua c'è questo quindi il video ragazzi finisce qua spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel like se non vi è piaciuto lasciate un dislike però comunque a me si è sembrato molto bellino il video poi spero che voi vi iscriviate ovviamente iscrivetevi attivate la campanella per vedere quando noi facciamo dei nuovi video così che sai sei sempre aggiornati quindi da Gabriale03F è tutto ciao ciao e linea allo studio